Facciamo tante cose belle e sono curioso di vederci adesso domani in campo e poi a Firenze esprimere un livello più continuo perché ho visto grandi cose e la cosa che sicuramente serve è avere adesso continuità quando arriveranno le partite dentro e fuori però credo che la qualità che abbiamo messo in campo non è scontata e anche il fatto che tante cose nuove le abbiamo assimilate velocemente e anche oggi gli avevo chiesto una cosa su delle rigiocate, le hanno fatte alla velocità della luce quindi molto bene da questo punto di vista